Musica Associati olivicoltori ben ritrovati alla quinta edizione del periodico 4 febbraio 2022. Prosegue la stagio vegetativa, non c'è alcuna necessità di attuare alcun intervento fitosanitario all'interno degli oliveti. La settimana scorsa avevamo parlato di residui di potatura e della capacità degli stessi di diventare humus. Abbiamo anche inserito un elemento di confronto con i costi dell'humus e dell'urea e questo ha sollecitato nostri associati a inviarci dei chiarimenti del perché l'urea è salita così tanto nelle quotazioni. Ne avevamo già approfondito l'argomento ancora nel dicembre 2021, ma siamo ritornati a valutare se qualcosa è cambiato. Dalla visione dei listini in commercio sembra che fra alcuni mesi ci sia una flessione del costo dei fertilizzanti. Però in una dinamica economica così anomala è difficile fare anche delle previsioni. Abbiamo così approfondito l'aspetto che riguarda la concimazione dell'olivo, particolarmente per quello che riguarda l'apporto di fertilizzanti azotati. Perché da lì parte la prima azione di concimazione nel nostro oliveto. Adesso se ci avviciniamo alla lavagnetta andremo a meglio valutare tutti questi aspetti che naturalmente sono dopo presenti nel nostro periodico. Le radici per poter funzionare hanno la necessità che la temperatura del terreno sia compresa fra i 12 e i 15 gradi centigradi, meglio se è superiore. Perciò in questo momento qui le radici sono ancora in fase di riposo vegetativo, non funzionano. E questo durerà ancora per 15, 20, 30 giorni, non lo sappiamo. Però ve ne porteremo sicuramente a conoscenza. Attualmente le radici hanno una temperatura a 30 cm nel sottosuolo di circa 5,5 gradi centigradi. Ve le abbiamo riportate in un grafico ad iniziare dal 1 gennaio a oggi 4 febbraio. Riportandovi una media delle temperature sono tutti gli areali olivicoli del Veneto. Naturalmente gli concimi che andremo ad apportare, quelli azotati, tutte le dosi ve le abbiamo inserite all'interno del periodico, hanno la necessità che per essere assunti nella pianta e essere utilizzati, le radici raggiungono queste temperature indicate 12-15 gradi centigradi, altrimenti si rischierebbe di perdere parte del prodotto. E nel periodico vi abbiamo riportato anche le dosi. I concimi azotati che potremmo portare nei nostri terreni si suddividono in quattro categorie. Ve li abbiamo riportati nella tabellina in modo che vi rimangano di più nella memoria. Abbiamo quelli nitrici, suddivisi in nitrato di sodio e in nitrato di calcio. Gli ammoniacali, sulfato ammonico, i nitro ammoniacali, il nitrato ammonico, poi abbiamo gli azoto organici. Fra gli azoto organici l'urea è il concime azotato organico più utilizzato. Non viene dilavato immediatamente nel caso ci siano delle forti precipitazioni, perché deve subire tutto il ciclo dell'azoto che è un po' complesso e può rimanere nel terreno anche un 15-20 giorni a seconda delle temperature e dell'umidità della terra stessa. Però va dato anche per un'economia, per un risparmio nel momento più opportuno. Sono tutti accorgimenti che portano a un'economia della coltivazione dell'olivo. In i prossimi periodici andremo a riportarvi tutte le temperature del terreno settimana per settimana, in modo da eseguire, come si fa d'altra parte per gli interventi fitosanitari, eseguirli nel momento più opportuno ed efficace. Con i concimi azotati abbiamo anche quelli a lenta cessione e i concimi complessi, ma di questo ne parleremo nei prossimi periodici. Da quanto abbiamo visto, la concimazione dell'olivo, se non è difficile, è complessa nella sua applicazione. Ci impegniamo a riportarvi i dati delle temperature del terreno nel nostro periodico e naturalmente le quantità di fertilizzanti da apportare nei terreni. E adesso un risentirci alla settimana prossima. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.